Salve ragazzi e bentornati su OnePiece.it Io sono Toschi ed oggi si parla di vendite manga Allora, è uscita la classifica dei manga più venduti in Giappone nel 2021 e One Piece si piazza al sesto posto Una cosa che potrebbe sembrare sorprendente vista la fama di One Piece, la popolarità di questo prodotto ma che in realtà non è così tanto una sorpresa Per quale motivo? Perché One Piece continua un po' quello che era il trend negativo negli ultimi anni Per 11 anni l'opera di Eiichiro Oda, fino al 2018, è stato il manga più venduto in Giappone 11 anni consecutivi, un record stratosferico Poi nel 2019 è arrivato Demon Slayer e One Piece è passato al secondo posto Nel 2020 One Piece è stato terzo, primo Demon Slayer per il secondo anno consecutivo Secondo Kindle, un manga bellissimo che in Italia sembra non andare alla grande ma che in Giappone vende tanto e giustamente perché è bello e al terzo posto One Piece Nel 2020 One Piece si piazza sesto e perde altre tre posizioni La classifica dei primi cinque vede Jujutsu Kaisen al primo posto con circa 30 milioni di copie Subbliotopo Dimo Slayer che perde quindi la testa dopo due anni Dopo solo i due anni, questo ci fa capire quanto è difficile fare quel che ha fatto One Piece per 11 anni Visto che un prodotto come Dimo Slayer che comunque ha ricevuto una popolarità, una fama assurda è riuscito per solo i due anni a stare in testa Al terzo posto Tokyo Revengers Quarto posto per l'attacco dei giganti che è terminato Quinto posto per My Hero Academia E poi come abbiamo detto One Piece Quindi Perché One Piece è finito al sesto posto? Cerchiamo di ragionare un attimo E cerchiamo di capire perché c'è una forbice così ampia Tra i primi tre e gli altri Tokyo Revengers Che è terzo, ha venduto circa 24 milioni di copie 24-25 Al quarto posto c'è l'attacco dei giganti con 7 milioni di copie Insieme a My Hero Academia e One Piece Che più o meno si aggirano tutti intorno ai 7 Numero più, numero meno Perché c'è questa differenza? Allora, per arrivare a capirlo Cerchiamo di comprendere quella che è la vita Di questi che sono i manga più famosi in Giappone Dall'inizio Noi, come vanno le vendite Allora, ognuno di questi fumetti Questi manga È uscito su una rivista One Piece È stato pubblicato dall'inizio sulla rivista Weekly Shonen Jump Ovviamente escono i primi capitoli sulla rivista Si vede come vanno i primi capitoli Quindi già dai primi capitoli Un manga riceve una certa popolarità E quando escono i volumi Dopo questi capitoli vengono raggruppati in volumi E venduti in volumi Se il manga ha ricevuto una buona popolarità nei primi capitoli Il volume inizia a vendere bene Già il primo volume inizia a vendere bene Ed è quello che è accaduto con One Piece One Piece vendeva bene già dall'inizio Però a un certo punto Nella vita di questi fumetti E li chiamo fumetti perché sono fumetti Non è qualcuno viene a rompere Ma sono manga Sono sempre fumetti Nella vita di questi fumetti Arriva un qualcosa che li sconvolge L'anime L'anime Fa una pubblicità assurda E fa ottenere a questi prodotti Una popolarità assurda Soprattutto se l'anime è fatto bene No? Perché l'anime Fa così tanta pubblicità? Perché in Giappone Hanno capito Anni e anni fa Che questi due media Dovevano andare di pari passo Che La popolarità del prodotto Ottenuta grazie ai due media Avrei portato vantaggio A entrambi No? A entrambe le aziende Che producevano Il prodotto in questione L'anime O il fumetto E quindi Lavorano di pari passo L'anime Quando esce Dà una spinta assurda Al prodotto Al manga E il manga inizia a vendere di più E che cosa succede? Che se inizialmente One Piece L'avevano cominciato a comprare Un milione di persone Quindi E' uscito il volume 1 E un milione di persone Hanno comprato Un solo volume Quando è uscito il manga Quando è uscito l'anime Più persone Ci sono stati Gli spettatori Che hanno deciso Di diventare lettori Quindi se One Piece Era a 10 volumi usciti Ognuno di loro Prendiamo Un milione di persone Che arrivano dall'anime Hanno comprato 10 volumi One Piece Vende così Subito Schizza da un milione A 10 milioni di copie vendute In un anno Perché in un anno Un milione di spettatori Diventati lettori Hanno deciso di comprare Per ognuno di loro 10 copie Sommandosi A quelli che già Comprano Compravano dall'inizio Il fumetto Aumentano Quindi è il recupero A portare Questi numeri Oltre Quella che è la normalità Che è quella che in questo caso Nel 2021 È dell'attacco dei giganti Di My Hero Academia Di One Piece La normalità di prodotti Che vendono tanto Ovviamente E infatti Che cosa è successo? Qualche anno fa C'è stato l'anime Dimo Slayer Dimo Slayer Boom 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 Botte assolute Ha raggiunto Numeri assurdi Un picco assurdo E ora Sta già un pochino calando I numeri sono ancora altissimi Perché c'è ancora gente Che recupera i volumi L'anime È stato fatto da poco E quindi I numeri sono altissimi Jujutsu Kaisen Primo Ha ricevuto un anime Bellissimo Quindi È salito Tokyo Revenger Ha ricevuto Un anime E È salito Quindi Numeri Perché ci sono tutti quelli Che hanno visto l'anime Che hanno detto Oh cazzo Mi piace l'anime Ora mi recupero il manga E sono andati a comprare Gli altri volumi E per One Piece È successa la stessa cosa Per undici anni consecutivi Mentre per Dimo Slayer C'è stato un picco altissimo Che è durato Un paio d'anni Per One Piece Questo picco Si è distribuito Per più anni E quindi Per più anni Poi c'erano più volumi Di One Piece Da recuperare E quindi Le persone Man mano recuperavano tutto Ora nel 2021 La maggior parte Delle persone Ha Comprato Ha recuperato One Piece Dei lettori giapponesi Quindi I numeri Totalizzati da One Piece Delle 7 milioni di copie Sono dovuti Maggiormente Ai volumi usciti Quest'anno Che dovrebbero essere 3 Quindi Se ognuno di questi volumi Ha venduto Un paio di milioni di copie Capirete Che più o meno Arriviamo a 7 milioni Più qualcuno Che comunque Continua a recuperare Ma si tratta Non di milioni Ma di centinaia Di migliaia di copie Arriviamo a quei 7 milioni Mario Academia Se non sbaglio Sono usciti Sono usciti 4 volumi E questo giustifica Il fatto che Mario Academia Che solitamente Sta un po' sotto One Piece Questa volta Sta sopra L'attacco dei giganti Ha sempre venduto Bene Ha fatto 7 milioni Di copie In più è finito Quindi può darsi Che il fatto Che sia finito Abbia portato Qualcuno a dire Ok adesso Lo recupero Scusate Ci sono quei fumetti No Che vendono di più Che vendono Cioè giustamente Ho detto una cazzata Ci sono quei fumetti Scusate Ci sono quei fumetti Che hanno ricevuto Un anime E che quindi Hanno ricevuto Un recupero Stop Non c'è altro Su cui ragionare Semplicemente E' questo L'anime Pubblicizza C'è il recupero E il recupero Porta certi titoli Ad andare Oltre La normalità Quindi Primi 3 Jujutsu Kaisen Demon Slayer Tokyo Revengers Vanno oltre Quella che è la normalità Gli altri Stabili One Piece L'attacco dei giganti Ma Hero Academia Vendono intorno Alle 7 milioni di copie Come vendono Tutti i fumetti Che vendono tanto Quindi One Piece Non è calato One Piece One Piece E' arrivato In quella che possiamo dire La parte finale Perché a prescindere Da quando possa Ancora durare One Piece Ci saranno altri 10 15 20 volumi 30 volumi One Piece E' comunque Nella parte finale E che quindi E' giusto Che i manga Che abbia ormai Una fanbase Stabile Che abbia ormai Una popolarità Stabile Ma il picco E' giusto Che venga raggiunto Dalle novità E in questi anni Le novità Sono state Demon Slayer Jujutsu Kaisen Adesso C'è Anche Tokyo Revengers E poi ragazzi Vi farò vedere Appena ci sarà L'anime Non so Di Kaiju 8 Che già sta vendendo Tantissimo Ci sarà Kaiju 8 La sopra Perché è così Che va E stop Ci fermiamo qui Io Vi ringrazio E One Piece Non vende poco Ricordiamoci sempre Ma quanto Cazzo E' bello One Piece Se vi va Iscrivetevi Al canale E comunque Qui sotto Nei commenti Vi metto il link Che riporta Al nostro Instagram Dove abbiamo pubblicato L'immagine Della top 10 Dei volumi Che hanno venduto Di più Secondo Oricon Ok Quindi Ciao ragazzi Se vi va Ripeto Iscrivetevi E se volete Attivate anche la campanella Non fa male E noi Ciao Ciao